Si è tenuto presso la sede della città metropolitana di Torino di Corso Inghilterra il workshop internazionale sull'energia geotermica, organizzato dal Politecnico di Torino e patrocinato dall'Associazione Geotecnica Italiana, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia e dalla città metropolitana di Torino. Il workshop, momento di studio e condivisione delle tecnologie di punta nel mondo della geotermia, è il prologo del meeting europeo che si svolgerà il 6 e 7 dicembre al Castello del Valentino. Hanno partecipato al workshop alcuni dei maggiori esponenti mondiali del settore. Un'ottima occasione quindi per approfondire un tema di grande interesse e capire lo stato dell'arte a livello internazionale di una delle metodologie più efficaci nel campo delle energie alternative. Il workshop si caratterizza per il fatto che i relatori sono tutti di altissimo livello alcuni provengono dal mondo della ricerca, quindi università prestigiosi in Europa altri invece direttamente dall'industria e quindi sono persone che hanno, nei fatti, realizzato geostrutture energetiche in Inghilterra, in Francia e in altri paesi europei. Le geostrutture energetiche sono geotermia di tipo superficiale, quindi noi utilizziamo la geostruttura per scambiare calore con il terreno. Non produciamo elettricità ma ne utilizziamo il calore. Sfruttiamo il fatto che il terreno a 8-10 metri di profondità ha una temperatura costante tutto l'anno e invece di realizzare dei pozzi appositamente sfruttiamo delle opere geotecniche, quindi muri contro terra, rivestimenti di gallerie, pali di fondazione per scambiare calore con il terreno. Quindi di fatto realizziamo una geotermia superficiale risparmiando anche sui costi di realizzazione dei pozzi. Il Politecnico di Torino, il mio gruppo di ricerca al Politecnico, lavora su quelle che chiamiamo le Energy Tunnels. Abbiamo sviluppato, forse si vede qui nel video qua dietro, un brevetto per un rivestimento energetico che può essere installato dalla macchina che realizza la galleria e serve a scambiare calore con il terreno. Quindi si industrializza il processo rendendolo anche più economico.